Lo hanno insultato, minacciato, spintonato e poi colpito con un pugno in faccia. E' accaduto nella notte tra sabato e domenica scorsi ai danni del titolare 45enne del ristorante Taverna dei Pescatori a Lido di Fano. Filippo Ravagli, conosciuto da molti come Felix, intorno al 1.30 è stato aggredito e gettato a terra da 6 o 7 minorenni, probabilmente sotto l'effetto di sostanze alcoliche o supefacenti. Dopo la chiusura del locale, il titolare era uscito per buttare la spazzatura nell'isola ecologica, che si trova a fianco del porto canale, in piazza dei Calafati, quando ad un certo punto ha notato dei giovani in via dello Squero. Erano gli stessi ragazzi che già durante la serata si erano fermati più volte davanti al locale e addirittura erano entrati per chiedere di aprire una bottiglia di vino che avevano portato con sé. Secondo altre testimonianze, poi il gruppetto si aggirava negli stessi punti da mercoledì scorso, Ravagli, stanco di quelle presenze, si è rivolto alla banda chiedendo loro di non alzare la voce, tutt'altro che intimiditi dal suo richiamo, si sono avvicinati all'uomo e hanno iniziato ad insultarlo. Lo scontro forse avrebbe potuto avere conseguenze ben peggiori, se non fosse stato per l'intervento di un cameriere dello stesso ristorante, che accortosi di quanto stava accadendo, è andato in suo soccorso ed ha allertato le forze dell'ordine. In poco tempo sono arrivate due pattuglie dei carabinieri che hanno identificato tutti i componenti. Ravagli, che probabilmente non sporgerà denuncia, si è poi recato al pronto soccorso dell'ospedale Santa Croce di Fano per farsi medicare la guancia sinistra gonfiatasi dopo il colpo. A intervenire sull'accaduto nella giornata di ieri sono stati diversi politici locali. Il sindaco di Fano Massimo Seri invece, non potendo essere presente, ha espresso con un messaggio vicinanza e solidarietà al ristoratore. Il primo cittadino ha voluto condannare fortemente l'episodio di violenza, auspicando tolleranza zero nei confronti di coloro che calpestano la dignità umana. La sicurezza di cittadini, turisti e di chi lavora a Lido, come in tutta la città, va salvaguardata, ha scritto Seri in una nota, e proprio per questo motivo, nei giorni scorsi, ha esteso la richiesta di una maggior presenza delle forze dell'ordine in un'ottica di prevenzione. Una vicenda questa che non ha risparmiato le polemiche dei residenti del quartiere, preoccupati e stanchi di subire intimidazioni e continui atti vandalici. Ha saputo dell'aggressione? Sì, ho saputo. Ha sentito qualcosa? No, me l'ha raccontato il proprietario. Ah, ecco. Lei era in casa in quel momento? Dormivo, era a letto. Quindi non ha sentito nessun rumore? No, no. Ma come la trova qua la situazione? Ci sono dei problemi sabato notte? Sì, sì, ci sono dei problemi, specialmente il venerdì, il sabato, ci sono dei problemi. Vede le pattuglie girare, ci sono dei controlli? No, mai viste, specialmente d'inverno. Sarebbero necessari? Eh sì, ormai. Di notte sente questi rumori? Sì, sì, di notte si sente, voglia, mettono anche paura. Una volta mi avevo chiamato i carabinieri, perché sono addosso due ragazzi. I residenti della zona che cosa ne pensano? Ho sentito i suoi vicini di casa? Pensano cose come me, però. Cosa li fai? Cosa li fai? Non ce n'è mai nessuno, non vigili, mica si vede niente. Specialmente là su in cima, dove ci sono le panchine, quei signori che abitano là su, si lamentano sempre, telefonano sempre, chiamano. Ma non si possono affacciare, perché c'è le bande, tutti questi ragazzi, ma giovani, non è che i ragazzi grandi, ragazzi di 15-16 anni. Quindi dopo succede quello che succede, quello che è successo a Filippo. Io sinceramente dormiva, non ho sentito niente, però si sente la confusione, se campa più. Cioè qui una volta, una volta questa era una via che te lasciavi le macchine aperte, lasciavi le chiavi nelle porte, adesso scherzi, rubano gli stendini, rubano gli stendini, devono legare gli stendini nelle grondaie, con le catene quelle del bicicletto. Grazie. Grazie.